ciao come ti chiami francesco francesco da due vini da molinella da molinella è l'ultimo arrivato è quello che ha ricevuto il messaggio francesco tu cosa fai nella vita artigiano edile oh è un imprenditore edile ragazzi complimenti quante case hai si riserva non lo vince perché sennò dopo che pagare l'indo ascolta come vorresti la tua donna ideale attualmente non cerco una donna a cosa cerchi vuole stare libero è venuto qua solo per mangiarlo ok è venuto in realtà dicono tutti così e poi non è vero poi non è vero vabbè ti